questo qua adesso me lo monta allora lui è Don Michele che è il catechista un secondo mattoncino lo mettiamo qua con un po' di colla non è difficile, è una cosa che si abita un po' alla volta a mettere in fratto adesso voglio farvi la chiave di volta perché di fatto ho avuto poco tempo ma volevo farvi la chiave qui di volta ma se manca questo, guardate cosa può succedere cade tutto prima letto o uscire prima letto o prima energia rinnovabile buon giro allora ok, aerea compressa, aerea industriale che assomiglia aerea plasma, la piegatura, il montaggio in seconda ci stai con la parte di caffetteria e ci sviluppa anche la parte di cof ok, non bisogna poi passare quella come ancora l'insegnante ok, aerea Non ho preso di più. Mi spiace e forgio. Questo bat c'è l'ape maia. Lui non è l'ape, è il fuco. Guarda che 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 fuco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.